Su Banca Etruria ho avuto modo di parlare della questione con l'allora ministro Boschi, che espresse un quadro di preoccupazione perché a suo avviso c'era la possibilità che Etruria venisse incorporata dalla Popolare di Vicenza e questo era di documento per la principale industria di Arezzo che è l'oro. Lo ha detto il presidente della Consob Giuseppe Vegas in audizione alla Commissione Banche precisando che io le risposi che Consob non era competente sulle scelte di aggregazione delle banche. In quell'occasione, ha precisato Vegas, fu il ministro che chiese di vedermi e venne a Milano. Achille chiedeva se avesse affrontato il tema di Etruria in altri momenti. Vegas ha detto che Boschi mi disse in un'altra occasione che suo padre sarebbe diventato vicepresidente. Con l'ex ministro Boschi ci siamo incontrati sicuramente due o tre volte ha spiegato Vegas. La prima volta è stato a Milano, prima abbiamo mangiato in un ristorante e poi siamo andati in Consob. Una sera venne a cena a casa mia con altra gente. Da chi fu chiesto l'incontro credo che una volta fu lei, un'altra volta sono stato io e ci siamo visti al ministero, ha risposto il presidente della Consob, sulle conoscenze in materia finanziaria della Boschi ha aggiunto non posso sapere le conoscenze di un ministro. Non posso esprimere opinioni sulla conoscenza di altre persone. La risposta è stata data rispetto all'affermazione precedente le dissi che Consob non era competente sulle aggregazioni. Alla domanda di Davide Zoggia sulle anomale oscillazioni del titolo Etruri a cavallo del decreto di riforma delle popolari, Vegas ha risposto abbiamo riscontrato che c'erano stati alcuni movimenti anomali, sono state fatte indagini anche con rogatorie internazionali e sono state sentite anche diverse persone, soprattutto un noto finanziere. Però ha continuato Vegas, gli uffici hanno riscontrato che i movimenti fatti da questo finanziere. A questo punto il presidente della commissione, Pierre Ferdinando Casini, è intervenuto per secretare la seduta per qualche minuto. Altro banca Etruria Boschi Vegas Giuseppe Vegas Maria Elena Boschi Politica suggerisce una correzione.